Abbiamo un incontro più importante con il Corpo Consulari di Aruba, anche con il rappresentante del Ministero di Relazione Exteriore di Holanda, un evento che dobbiamo organizzare per il nostro Departamento di Relazione Exteriore di Aruba, e anche per altri professionali di Aruba che sono presenti. L'intenzione è che con il Relazione Exteriore di Relazione Exteriore di Relazione un guia per il nostro Consulari di Aruba, un tema di protocollare, un manual di protocollare, per assicurare il tema che ci sono trovati per il lavoro, per il servizio, per il cittadino, per riconoscere il documento. È un documento che è un documento vivo, e lo segui, cambia, ma sopra che ci sono più temi, che ci sono ancora, e ci sono ancora, che ci sono stati diversi, e ci sono stati e ci sono stati per l'interno di Relazione Exteriore di Relazione Exteriore di Relazione Exteriore di Relazione Exteriore. la qual è la nostra busca, per seguire e proprio vista, desarrollare più amistà, colaborazione e, insieme, il paese che è avanti.